bella a tutti i forniters benvenuti e bentrovati su leon tube in questo video andiamo a vedere come fare il semplice incarico degli incarichi mi rappresenta il pavimento e lava nello specifico andiamo a vedere ripristina salute oppure ottieni scudi quindi è una missione abbastanza semplice sapete come farla dovete trovare tutto ciò che faccia energia qualora l'aveste persa o scudi e una volta che abbiamo ad esempio qui qualcosa che ci da scudi ne siamo a farlo vedete abbiamo completato già un incarico di salire qui adesso mi mancano 10 10 per poterla completare qualsiasi cosa ora appena vengo colpito da avversari appena vengo colpito da avversari ovviamente e mi faccio la ricarica ho completato la missione tutto molto semplice quindi sono alcune missioni semplici altre un pochino più complicate che riguardano la battaglia e quindi se non siamo abituati a a battagliare diciamo e soprattutto qui perché c'è la versione costruzione detto questo ragazzi ci vediamo mi raccomando un bel mi piace ciao a tutti grazie 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 Grazie.